Il Bari non approfitta del mezzo passo falso della Ternana, fermata sull'1-1 a Palermo, non va oltre il pareggio contro la Cavese ultima in classifica e resta a meno 11 dalla vetta. Parità in tutto, al gol di Bubas risponde Dursi, alla traversa colpita da Derisio risponde quella fatta tremare da Scoppa. Le formazioni, Bari che perde nel pre-partite il capocannoniere del campionato Antenucci, fermato da un affaticamento muscolare. Auteri rilancia Dursi in attacco con Marras e Candellone, torna dopo lo stop per Covid, Maita a centrocampo, Minelli rientra in difesa con Ciofani che va a destra. Curiosità, dirige l'incontro Michele Del Rio, uno dei nove figli dell'ex ministro Graziano. Campilongo risparmia Calderini, diffidato, ma risponde con un 3-4-3 speculare al Bari. In attacco ci sono Bubas, Gerardi e Montaperto. Cavese è coraggiosa in avvio, la squadra di Campilongo conquista tre calci d'angolo in sei minuti. Poi va al tiro al decimo con Lulli, destro che scivola un paio di metri dalla porta di Frattali. Il Bari però ha qualità e la sfrutta, Ciofani va in fascia a destra, appoggia al centro dove prima Marras e poi Dursi non trovano il tapin. Biancorossi ha un passo dal vantaggio al quarto d'ora, contropiede che porta Rolando in area, appoggio al limite per Derisio che si coordina e calcia. Il suo destro supera Kucic ma si infrange sulla traversa. Marras si accende al minuto 27, la sua percussione a sinistra produce un invito per Ciofani che trova però l'opposizione di Ricchi sul tentativo di calciare a rete. Un giro di lancette, Maita sfiora il gol, controllo al limite, destro a giro e Kucic che soffia per spingere la sfera al lato del palo. Cavese che prova a far male andando negli spazi, Montaperto recupera palla e arma il destro di Gerardi, conclusione al volo. Frattali blocca, nel finale di primo tempo la Cavese passa, gli ospiti sfruttano un lancio lungo che coglie impreparato Sabbione. Bubas stoppa all'altezza del vertice di sinistra e calcia a incrociare. Non ci arriva Frattali, 0-1 e quinta rete stagionale per il numero 40. A inizio secondo tempo Auteri cambia, fuori Rolando colpito duro al piede nel primo tempo e dentro Sarsi, Bianco prende il posto di Maita. Che aspetti la reazione del Bari, che non calcia però importa nei primi 22 minuti, così Auteri passa al 4-2-3-1 con Citro al posto di Minelli. Il cambio di modulo produce i suoi frutti, Sarsi da sinistra crossa sul secondo palo, dove Dursi salta più in alto di tutti, non la specialità della casa, e batte con un colpo di testa a Kucic, 1-1 e quinta rete in campionato per l'ex Catanzaro. Una volta impattato il punteggio, il Bari alza i ritmi, ma la Cavese prova ad aprirsi spazi in contropiede. Gerardi stringe il campo, palla al piede, libera il destro e trova i guantoni di Frattali. Cavese che inserisce forze fresche con Calderini, la palla golla, arriva sul piede di Candellone al minuto 41, il tocco di Marras pesca il numero 18 in aria, controllo infelice, e palla nella disponibilità di Kucic. Nei sei di recupero ti aspetti l'assalto del Bari, invece la Cavese ad andare vicino al colpo grosso. Calderini conquista una punizione dal limite, scoppa calcia e spacca la traversa a Frattali battuto. E l'ultima emozione prima del fischio finale, al Bari non bastano 98 minuti per battere la Cavese, in grado di annullare sul campo 29 punti di distanza.